Prende piede l'iniziativa dei commercianti agropolesi del centro, determinati a istituire la loro associazione, che si chiamerà Per le vie di Agropoli. Nella giornata di ieri, infatti, si è svolto il loro secondo incontro presso il Bar Nazionale ad Agropoli in Piazza delle Mercanzie, dove si è parlato delle modalità secondo le quali costituire l'associazione e delle idee da proporre all'amministrazione comunale. Oggi abbiamo fatto il secondo incontro con i commercianti delle vie del centro per poter creare un'associazione nostra di commercianti che vogliamo semplicemente affiancarci a delle proposte da poter portare al Consiglio Comunale per cercare di movimentare un po' tutto quello che riguardi Agropoli in generale, che possa essere un abbellimento, che possa essere un evento. Vorremmo portare delle proposte costruttive al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale. Stiamo lavorando per trovare gli associati stessi e chi ha interesse a partecipare a questa situazione e di conseguenza stiamo creando anche un logo e un brand da portare avanti in tutte le nostre attività che andremo a svolgere. Appena avremo l'associazione costituita e delle idee valide da poter portare all'attenzione del Sindaco. Verrà richiesta anche la partecipazione a una delle nostre assemblee del primo cittadino al quale sottoporremo poi le nostre proposte per vedere quelle che sono anche le loro intenzioni di aiutarci a fare questa situazione che noi cerchiamo solo di migliorare quello che è il già bello che c'è di Agropoli.